Stiamo girando questo video da XZ Premium alla risoluzione del Full HD a 60fps Vi ricordo che comunque è presente la stabilizzazione su 5 assi in questa modalità Facciamo una macro un po' su questo fiore e ci muoviamo un po' per vedere la stabilizzazione video Facciamo un piccolo zoom Video girato da Xperia XZ Premium alla risoluzione di Full HD Ciao ciao!